Il dono più grande è uno solo segretario e il tempo, soltanto al massimo avremo fatto qualcosa di importante per il territorio. La collaborazione sarà la base di tutto il nostro operato e solo in questo modo potremo raggiungere gli obiettivi che ci rifiugiamo. Venti! Venti! Stefano Vino ha riportato 991 voti per cui il comitato rispette il Comitato Stiglia Santino. Ringrazio le società del Comitato Territoriale Erpina Sagno che sono intervenute insieme ai tecnici, agli atleti e a tutte le componenti che consentono alla valla a volo di queste aree di progredire e di andare avanti nel migliore dei modi. Il Comitato Territoriale, il Consiglio, il Presidente si propone sicuramente di intraprendere una strada del ripristino della normalità per il periodo che abbiamo attraversato, cercando di riportare di nuovo bambini e adulti in palestra e di far divertire il pubblico.